Non c'è giorno in cui non parlano di un nuovo medicinale o di una nuova terapia. Io direi che abbiamo un nemico invisibile e imprevedibile. Questa è la definizione che gli va data, invisibile e imprevedibile. Non dobbiamo essere terrorizzati. Il terrore e il panico sono la peggiore malattia che noi possiamo avere. Però nel stesso tempo non dobbiamo neanche essere faciloni, nel senso di dire che abbiamo già trovato la terapia. Dobbiamo avere un cauto ottimismo. Perché? Perché le esperienze di Napoli sul tociluzimab, questo farmaco per la terapia dromatoide, hanno la sua realtà scientifica. Inibisce l'interlochina 6 che è un mediatore dell'infiammazione. E sappiamo bene, o meglio ce l'hanno spiegato questi ricercatori che sono veramente stati di un livello di intelligenza, di capacità deduttiva particolarmente elevata, che è il mediatore dell'infiammazione. Quando noi andiamo incontro alla polmonica del coronavirus, non è il virus soltanto che danneggia i polmoni, ma siamo noi stessi producendo grosse quantità di interlochina 6, che produce un grosso processo di infiammatorio che porta ad un danno gravissimo. Questo farmaco blocca l'interlochina 6 e quindi fa sì che il danno non sia gravissimo, a tal punto che dov'è che sembra che funzioni? Le persone ancora non intubate con insufficienza respiratoria medio-grave, dove chiaramente questo consente di non avere l'evoluzione gravissima. Su questo sembra che funzioni discretamente bene. C'è un nuovo farmaco antivirale che è uscito, Rensepravir, da Genova è uscita stamattina una notizia di una persona guarita. I francesi dicono che funziona bene l'idrossiclorochina, che è un vecchissimo farmaco per la cura della malaria, che noi usiamo tantissimo da tanti anni. C'è il gruppo di Utrecht, che secondo me è quello che in questo momento ha le maggiori chance per la terapia antiretrovirale, che ha trovato il sistema per poter attaccare la spina, cioè un punto del virus che è quello che causa il danno, e poter attaccare, danneggiare il virus proprio a quel livello, determinando il danno del virus e quindi la non-infezione, danno una continua infezione del virus nelle cellule umane. Quindi cauto ottimismo, va bene, tutto il mondo è in grande fermento, va bene, e vi vorrei ricordare questo, non si tratta di un virus prodotto in laboratorio da un governo cattivo che vuole dominare il mondo, questa è virologia, è biologia, si chiama salto di specie, che chi si interessa di virus sa bene cosa vuol dire. Non è fantapolitica, la fantapolitica la lasciamola veramente ai giornaletti, ai film, questo è un salto di specie, è passato dal pipistrello all'uomo, come ci è successo in passato, la viaria, la suina, e chi si interessa di queste cose sapeva bene che prima o poi avremmo dovuto fare i conti con questo. Però ricordiamoci, la prevenzione è l'arma più importante, come vedete stiamo a distanza di un metro e mezzo, due metri, tra noi fuori all'aria aperta per fare una ripresa di questo genere, perché ci atteniamo a quelle che sono le normative, le direttive e le regole dettate dal nostro Ministero della Sanità. La distanza, perché la distanza è quella che ci consente di non rimanere contagiati, poi lavarsi le mani bene, con attenzione, non toccarsi il viso, avere tutte quelle norme che veramente ci possono consentire di ridurre il numero dei contagiati, di ridurre il numero delle persone che si ricoverano, di ridurre il numero delle persone che vanno in rianimazione e quindi dare il tempo anche ai farmaci di funzionare, ai nostri operatori sanitari di poter guarire tutti. Perché Rossi ha detto una cosa molto giusta, noi non lasceremo chiaramente che qualcuno non venga curato perché è vecchio, anziano e malato. La cura deve essere una cura per tutti i toscani, anzi, se possibile, se avremo spazio, quello di dare una mano anche alle regioni molto più impegnate.